Lynn è con sua nonna, Lucy. Abbiamo una prenotazione in un ristorante elegante stasera. Ma dobbiamo uscire subito. Va bene. Oh no! Dove sono le chiavi della mia moto? Lynn, perdi sempre le tue chiavi. Sono nella tua giacca? Lynn cerca nella giacca. Non sono qui. Sono sotto il letto? Non sono sotto il letto. Sono nel bagno? No, impossibile. È troppo strano. Non so dove sono le chiavi. Prendiamo un taxi? No, è troppo tardi per andare... Mi dispiace. Va bene. Io posso cucinare. Lucy apre il frigor... Ah! Ecco le tue chiavi! Elegante. Bagno. Frigorifero. Prenotazione. Tardi. e ragazzi... Prenotazione. Arta. Elegante. Elegante. Elegante.